Non mi accontento, do il massimo sempre, è il mio stile. Se sono le azioni a fare un uomo, sono io l'uomo di oggi. Un uomo non si accontenta, rimani concentrato e mi dico, sei un uomo. Più di una stretta di mano o di un lavoro ben fatto, fanno la disciplina e l'impegno vissuta ogni giorno. Giudica dei fatti, sii fedeli a te stesso, questo fa di me un uomo di successo, questo fa di me l'uomo di oggi. Boss Bottled, la fragranza maschile di Hugo Boss Boss Bottled, la fragranza maschile di Hugo Boss